M come mamme, queste sto intendendo, mi raccomando il mercato è pieno in questo momento, le pulite, le farcite con un po' di aglietto, un po' di prezzemolo, un po' di sale e anche un po' di pepe, le rovesciate dentro un tegame, le mettete a fuoco, vivace, circa 7 minuti, proprio che sentano il calore e loro cominciano a stufare, poi un consiglio, pigliate la pentola, spingete il fuoco, mettetela dentro un forno per altri 10 minuti e poi la tirate fuori e lasciate ben coperta, rimarranno turgide e morbide. Poi se volete, io questo l'ho messo nel mio menù, c'è poco da fare, con un cucchiaio, allargate un po' una volta che il centro è cotto e ci mettete un torlino d'uovo e poi pum dentro un tegamino pieno di purè gratinato e faccio le mamme farcite d'uovo crudo affogate nel purè, credetemi, ci vuole quel mezzo filone di pane da mangiare insieme ma alle volte ci si può concedere, in fondo ho mangiato verdure. Grazie